La nuova Pescara è un cantiere già aperto da un referendum e da una legge regionale, un'utopia da trasformare in realtà. Bisogna accelerare il processo di fusione. Il 2024 è più che sufficiente, così il sindaco di Pescara Carlo Masci, che in una lettera aperta ha ribadito la sua posizione. Per contro i sindaci di Spoltore e Montesilvano spingono per il rinvio e all'unisono affermano affrettare l'operazione può essere dannoso. Come si fa a trovare una sintesi? Non è certamente semplice, io voglio solo che si rispetti la volontà dei cittadini, perché nel 2014 c'è stato questo referendum che ha sancito la nascita della nuova Pescara e in tutte e tre i comuni i cittadini si sono espressi favorevolmente. Abbiamo avuto molto tempo, ci sono delle scadenze a rispettare, io credo che possiamo rispettarle. La data ultima stabilita dalla legge regionale è il 2024, io mi auguro che non venga cambiata. Ho avuto degli incontri con i miei colleghi sindaci e in questi incontri ho proposto anche di utilizzare le competenze dell'Università per far sì che si possa stabilire qual è la formula migliore per i singoli servizi, per la gestione a favore di una nuova città che sorgerà e che sarà una città di 200.000 abitanti. La scadenza è vicinissima, però abbiamo un anno e mezzo di tempo per lavorare e credo che insieme possiamo farcela. A molti piace il 2027, perché sarà una data speciale la coincidenza con il centenario della nascita di Pescara. Sì, è molto soggettiva come data, dico però che non vorrei che il tempo che passa servisse per allentare la tensione morale su questo argomento, invece credo che sia più opportuno accelerare per rispettare la scadenza della legge regionale. Il primo passo è la creazione di una centrale di committenza unica e un unico PRG. Sì, di questo già abbiamo parlato per la centrale unica di committenza, abbiamo anche visto quali possono essere i percorsi da attuare, ma il PRG è unico e necessario, abbiamo un territorio unitario, bisogna ragionare con una sola testa, perché non possiamo avere per esempio due piani spiaggia o realtà vicine che sono trattate in maniere diverse.